Grazie a tutti. Per fare il punto su tutte le principali notizie della giornata, sono davvero tanti gli argomenti che andremo a trattare, subito però parliamo della crisi dell'automotive. Oggi a Roma lo sciopero nazionale. Verso la capitale anche 20 pullman dalla Basilicata, con a bordo mille tra delegati sindacali e lavoratori dell'area industriale di Melfi. I dettagli da Luigi Santopietro. Grazie a tutti. Anche il contratto nazionale per tutti i metalmeccanici in una fase di stallo, dopo che non sono state accettate le richieste sindacali per un miglioramento delle condizioni salariali e di lavoro. Un appuntamento importantissimo, quello nella capitale, anche per gli operai e gli operai della zona industriale di San Nicola di Melfi, dove la produzione di auto è passata da 99.085 vetture nel 2023 a 56.935 nel 2024, con una riduzione degli addetti da 7.750 a 5.400 e cassa integrazione continua anche nell'indotto. Alla manifestazione non aderiranno Fismic, UGLM e AQCF, che puntano il dito contro le altre sigle sindacali di settore per aver interrotto un percorso unitario nella trattativa Stellantis intrapreso da mesi. Tali sigle, in contemporanea allo sciopero di Roma, terranno presidi parallele a Potenza, Napoli, Torino, Cassino, Atessa e Bari. L'avvertenza è approdata nelle ultime ore anche in terza commissione consigliare del Consiglio regionale di Basilicata, su iniziativa della UIL, che ha sollecitato il sostegno dell'esecutivo Bardi e della Sise Lucana alla manifestazione nazionale a difesa del comparto automobilistico. E adesso andiamo a vedere la prima pagina della Nuova del Sud di oggi. In primo piano la crisi idrica, colpa di una classe politica inadeguata e di acquedotto lucano, sono le parole del segretario della CGL, Mega. L'emergenza del momento scopre responsabilità precise della politica, mai affrontate in 30 anni, problematiche infrastrutturali enormi e intanto primistrali anche dal centrodestra, Cagliata, Fratelli d'Italia, mica la soluzione è la danza della pioggia? Parliamo poi della facoltà di medicina, si guarda al futuro con la specialistica. Il punto di vista di Nino Grasso, che oggi si occupa del San Carlo, il caso Spera sotto la lente della Corte dei Conti. Nel taglio alto il caso Nicastro, il blogger potentino vittima del Covid nell'aprile 2020, la gestione dei tamponi era affidata esclusivamente alla direzione sanitaria. Sono le parole dell'ex DG dell'ASP Bocchicchio, audite in aula. Lago Negro, Stolking, da donna a donna, applicato per la prima volta il braccialetto elettronico dopo l'entrata in vigore delle modifiche al Codice Rosso introdotte dopo la morte di Giulia Cecchettin. Uno stadio in lacrime per Samuel, Michele e Gaetano. Ieri pomeriggio in 10.000 allo Zaccheria di Foggia per i funerali dei tre giovani morti domenica dopo il tragico incidente sulla potenza Melfi. Intanto oggi la perizia sui veicoli. Nel taglio basso, appunto, lo sentivamo prima, lo sciopero dei metalmeccanici, oltre 1.000 lucani oggi a Roma, e poi l'avvertenza PEA, scattano i licenziamenti, lavoratori di potenza in stato di agitazione. Il calcio di serie C, potenza e picerno verso il derby, tanti dubbi di formazione, tra gioie, dolori e infortuni. De Giorgio, dopo Caturano e Verrengia, perde anche Rossetti. Tomei conta di recuperare qualche giocatore dall'infermeria. E adesso andiamo ad approfondire la notizia d'apertura della Nuova del Sud di oggi. Crisi idrica è l'inadeguatezza della classe dirigente lucana e della disastrosa gestione di acquedotto lucano. Lo dicevamo prima, appunto, sono le parole del segretario della CGL, Mega. Dura invettiva del segretario, altro che bonus acqua, siamo al cospetto di un deserto dei Tartari. La regione acceleri sull'iter per lo stato di emergenza. I 20 milioni di euro che la regione ogni anno stanzia per chiudere in positivo il bilancio dell'ENT sarebbero potuti servire per la manutenzione e per le opere necessarie al rinnovamento delle infrastrutture idriche. Rendere esigibili i crediti maturati dalla Puglia, dice Mega. E proseguiamo, anche Cagliata entra a gamba tesa su acquedotto lucano e Regione, assurdo, dice che l'unica soluzione sia la danza della pioggia. Il parlamentare di Fratelli d'Italia irrompe sull'emergenza idrica, strali sulla gestione di acquedotto, su errori di programmazione e manutenzione della diga della camastra, fallimento gestionale della risorsa idrica, subito un consiglio straordinario. E siamo al punto di vista di Neno Grasso di oggi, che si occupa dell'ospedale San Carlo. Il caso Spera finisce sotto la lente della Corte dei Conti di Basilicata. L'organo requirente della magistratura contabile ha chiesto lumi alla Regione sulla relazione prodotta dalla Commissione di Valutazione del Sant'Anna di Pisa sull'attività svolta dal Direttore Generale del Nosocomio Potentino nel biennio 2020-2022. Notizia che arriva all'indomani dell'attacco a mezzo stampa di Spera, lanciato all'indirizzo del Presidente Pittella e dell'editorialista della Nuova. E lo sentivamo appunto dai titoli ieri in 10.000 allo stadio Zaccheria di Foggia per l'ultimo saluto ai tre giovani tifosi deceduti nell'incidente di domenica sera sulla potenza Melfi. Intanto le indagini proseguono per fare piena luce sull'accaduto. I dettagli da Fabrizio Di Vito. Un'atmosfera surreale di smarrimento e commozione per tre giovani strappati alla vita troppo presto. Tra lacrime, strazio e fragorosi applausi, Foggia ha tributato l'ultimo commosso saluto a Samuel Del Grande, Michele Biccari e Ghetano Gentile di 13, 17 e 21 anni, vittime dell'incidente di domenica sera sulla potenza Melfi dopo aver assistito al Viviani al match contro il Potenza ed è stato lo Zaccheria, lo stadio dove i tre tante volte hanno sostenuto la loro squadra del cuore ad ospitare l'esequi alla presenza tra gli altri del ministro dello sport Andrea Bodi sugli spalti con sciarpe, bandiere e tifoserie da ogni parte d'Italia. All'esequi è anche una delegazione del Potenza Calcio che in questi giorni non ha mai fatto mancare il proprio sostegno ai familiari delle vittime e dei feriti. Un'intera città si è fermata, bandiere a mezz'asta e saracinesche abbassate nel rispetto del lutto cittadino. Sul fronte delle indagini intanto richiesta una perizia cinematica i cui risultati saranno consegnati entro i prossimi 90 giorni. Per ricostruire nel dettaglio la dinamica del tragico incidente costato la vita ai tre giovani, questo l'ulteriore passaggio investigativo disposto dalla Procura di Potenza per chiarire tutti gli aspetti legati al tragico schianto che ha coinvolto tre mezzi. Dopo lo scontro frontale con un'auto che procedeva in direzione opposta, con a bordo una famiglia di vaglio, il minivan sul quale viaggiavano le tre vittime aveva impattato contro l'autobus che stava riportando a casa altre decine di supporter pugliesi. Ulteriori elementi arriveranno dai risultati delle autopsie sui corpi di Samuel Michele Gaetano disposte dalla Procura del Capologo Lucano nell'ambito del fascicolo aperto per omicidio stradale e che vede iscritto nel registro degli indagati il padre di una delle vittime, l'uomo che si trovava alla guida del minivan. Ancora gravi purtroppo le condizioni di altri due giovani supporter foggiani di 15 e 18 anni ricoverati in rianimazione all'ospedale San Carlo di Potenza. Anche a loro è andato un pensiero durante l'esequio allo zaccheria, un luogo di sport e divertimento trasformato per un giorno nella cattedrale della città, colma di lacrime e dolore. E proseguiamo adesso con la lettura delle pagine interne della Nuova del Sud di oggi. Il caso Nicastro, il blogger potentino vittima del Covid nel 2020, la Regione affidò la gestione dei tamponi Covid esclusivamente alla Direzione Sanitaria dell'ASP. La testimonianza dell'ex DG dell'Azienda Sanitaria Lorenzo Bucchicchio che dice chiese alla Regione di coinvolgere anche la Direzione Generale e quella amministrativa, ma le direttive erano altre. Maggiori dettagli nel pezzo a firma del collega Fabrizio Di Vito di oggi. E proseguiamo. Siamo alla Facoltà di Medicina. Cresce l'appeal del corso di laurea all'Unibas. Si punta ad avviare la specializzazione dal prossimo anno. Per l'anno accademico in corso le iscrizioni hanno quasi raggiunto il contingente massimo di 75 posti e il 50% degli studenti è lucano. Il Dipartimento di Scienze Sanitarie sta operando per completare l'iter per attivare le specializzazioni dal 2025 massimo tra due anni. Mentre la politica discute sul progetto di riforma per togliere il numero chiuso con il prorettore Caccavale il punto sulle immatricolazioni nel pezzo di Mara Risola. E proseguiamo. Siamo ai temi del lavoro. Scattano i licenziamenti lavoratori della PEA in stato di agitazione. Sindacati e dipendenti hanno incontrato Pittella e si punta alla regionalizzazione del servizio. Ai nastri di partenza il progetto Women, uno spazio di incubazione ed empowerment per donne al Via La Call per nuove imprese femminili. Nel taglio basso è il diritto allo studio. Unione degli studenti di Potenza oggi in assemblea e si va verso la manifestazione del 15 novembre. Siamo a pagina 12 della Nuova del Sud di oggi. Potenza città, Parco Baden-Powell, provincia e comune intervengano insieme sulla messa in sicurezza. La cooperativa Venere che gestisce l'area chiede una serie di interventi di manutenzione per quello che è diventato un importante luogo di vita sociale della città. Il centro di urno Rotari di Bucaletto, attenzionato dalle opposizioni, Vigilante e Saponara presentano un'interrogazione al sindaco relativa alla chiusura del centro. E adesso ci spostiamo a Melfi, dove è entrato in funzione da qualche settimana lo street control. Grazie a una telecamera installata sulle auto della polizia locale è più facile rilevare le violazioni del codice della strada e sanzionare comportamenti scorretti. Il servizio è di Vittorio Laviano. All'ennesimo atto vandalico verificatosi nella villa di Piazza Mancini, l'amministrazione comunale di Melfi risponde con lo street control, telecamere mobili che saranno posizionate sulle auto della polizia locale in grado di risalire in tempo reale a tutte le informazioni relative alla registrazione della vettura. Lo street control che è andato definitivamente in ausilio all'ufficio della polizia locale di Melfi è uno strumento tecnologicamente avanzato che ci permetterà di monitorare alcune casistiche presenti ormai da tempo nella nostra città. Mi riferisco nello caso specifico a autovetture che sono sprovviste di assicurazione piuttosto che di revisione, ma ci permetterà anche di allertare tramite questo sistema le macchine che sono sui divieti di sosta piuttosto che parcheggiate nella maniera non opportuna. Lo street control si inserisce in realtà in un progetto molto più ampio, partito proprio all'inizio dell'anno con l'installazione dell'impianto di videosorveglianza. Abbiamo lo street control adesso che va in ausilio. presto avremo i nuovi parchimetri, le nuove colonnine per i parcheggi che saranno anche quelli di ultima generazione, quindi è un insieme di attività appunto programmate già da tempo. Sbaglia chi pensa che lo street control servirà a rimpinguare le casse comunali. Non è un mezzo per fare cassa nella maniera più assoluta, ma cercare di mettere a posto alcune situazioni che obiettivamente vanno monitorate meglio. Sentiamo ora come funziona tecnicamente lo street control. È una telecamera installata proprio sulla tovettura del corpo della polizia, connesso tramite cavo a un tablet. Il tablet è connesso a sua volta tramite internet alla motorizzazione, quindi con l'intelligenza artificiale applicata. la telecamera fotografa in tempo reale la targa dell'autovettura o del motociclo e fa una visura in tempo reale alla motorizzazione. Infine un preavviso verrà dato alla popolazione prima dell'entrata in funzione dello street control. È obbligatorio l'avviso, quindi tutte le strade monitorate dallo street control saranno preventivamente avvisate. E siamo a pagina 13 della Nuova del Sud di oggi. Primo braccialetto elettronico per stalking al Lago Negro nei confronti di una donna accusata di atti persecutori verso un'altra donna. Appunto braccialetto elettronico d'urgenza e di vieto d'avvicinamento alla parte offesa a 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. nonché di vieto di comunicare con la stessa ad una donna di Lago Negro di 55 anni accusata di atti persecutori perpetrati contro un'altra giovane donna. Grande successo a potenza per il Lucania Ice Comics due giorni di divertimento, l'evento dedicato alla cultura nerd. E siamo adesso a Matera, dieci anni dalla proclamazione della città dei Sassi a Capitale Europea della Cultura 2019. Ieri a Casacava, la tavola rotonda, Matera, dieci anni di capitale per tracciare un bilancio del percorso fatto sino ad oggi e individuare nuovi obiettivi comuni per i prossimi anni. Al via la riqualificazione del Parco Macamarda nuove giostre e una riproduzione ludica della balena giuliana. Nel frattempo riparte il progetto Officina dei talenti contrastare dispersione e abbandono scolastico. E adesso parliamo di produzione della fragola. Il bilancio 2024 è positivo. Apofruit segnala risultati soddisfacenti nonostante il clima poco favorevole. Sentiamo Mariolina Notargiacomo. La fragola si conferma sempre più regina del metapontino grazie agli investimenti che da oltre 15 anni Apofruit sta conducendo nell'areale ionico circa il 90% della produzione. Anche quest'anno risultati soddisfacenti per i produttori locali. Il consorzio conta 2700 soci in diverse regioni d'Italia di cui 35 in Basilicata per una coltivazione della fragola che si estende su 120 ettari. Sebbene anche questa campagna sia stata condizionata dagli andamenti climatici la raccolta ha fatto registrare 550 grammi per pianta contro il record di 600 grammi di prodotto nel 2023 e soprattutto un livello di liquidazione importante attestato sui 54.000 quintali rispetto ai 58.000 dello scorso anno. La media riconosciuta ai produttori per le due principali varietà di piante 63% sabrosa e 30% rosetta si attesta infatti sui 3,20 euro rispetto ai 2,80 del 2023. Le altre varietà che coprono complessivamente un 7% della produzione si sono comunque attestate mediamente su 3 euro al chilo. Si conferma vincente il progetto di rinnovamento della cultura intrapreso da Apofruit nel Metapontino una quindicina di anni fa. La produzione di fragole viene veicolata nei canali della grande distribuzione e del normal trade 80 posteggi nei mercati generali in tutta Italia attraverso i due marchi di qualità in diverse confezioni e linee di valorizzazione. Investimenti sono stati attuati negli ultimi anni anche in termini di lavorazione dell'ortofrutta con il rinnovo e l'ampliamento del magazzino di scansanoionico assistenza tecnica dedicata agli associati e assicurata con il supporto di tecnici per seguire tutte le fasi della produzione con un servizio di acquisto e distribuzione delle piantine da mettere a dimora ogni anno e dove è previsto con le contribuzioni europee per la copertura di parte dei costi a carico delle aziende agricole. E siamo allo sport con il calcio di serie C Potenza dopo Caturano si ferma anche Rossetti a prensione in attacco Picerno invece dopo il KO di Taranto il riscatto passa dal derby con i cugini in rosso-blu Tomei prova a recuperare qualche pedina in difesa E adesso andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano del sud di oggi Acqua, emergenza peggio del previsto Mega CGL chiede alla regione di incalzare il governo e attacca 30 anni di gestione Caiata, fratelli d'Italia, spara su Bardi e chiede una seduta straordinaria del Consiglio regionale Telesca scarica il PD il sindaco di Potenza si smarca dalla cordata di centro-sinistra verso una sfida tra l'uscente Andretta e l'ex presidente Anci, Bernardo Nel taglio alto Bernardi una mossa disperata per anticipare il verdetto del notaio dà alla maggioranza disponibilità di mettersi per prendere 20 giorni di tempo Nel taglio basso il caso del centro Rotari di Bucaletto con l'interrogazione presentata da vigilante Saponara appunto sulla mancata riapertura segnalati disagi per gli utenti disabili gravi e medio gravi e le loro famiglie E adesso chiudiamo questa pagina di approfondimento dedicata alla nostra regione con le previsioni meteo a cura dei nostri esperti Ben trovati da Nikos a Chiodetto aggiornamenti con le previsioni di trabimeteo per venerdì quando un minimo di bassa pressione sarà attivo sull'Italia con nuvole e piogge a interessare tutto il nostro paese l'anticiclone di fatti lo ritroviamo molto più a nord-est tra la Russia, i paesi baltici e la Finlandia andiamo al dettaglio sull'Italia quindi una giornata a tratti perturbata un venerdì instabile con precipitazioni a macchia di leopardo soprattutto sul nord-est e al centro-sud sabato attenzione a una linea temporalesca anche intensa forte sulle regioni meridionali e poi piogge abbondanti sabato anche sul nord-est la giornata di venerdì tanta variabilità tra schiarite e annuvolamenti regolari di passato a tratti queste nuvole minacciose con improvvisi piovaschi più probabili al nord e parte tirrenica maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo previsioni per oggi al mattino sulle coste nuvoloso con qualche schiarita in montagna alternanza di sole e nubi sparse nel pomeriggio sulle coste alternanza di sole e nubi sparse in montagna coperto con piogge intermittenti previsioni per domani al mattino sulle coste alternanza di sole e nubi sparse in montagna cielo molto nuvoloso coperto nel pomeriggio sulle coste coperto con piogge intermittenti in montagna coperto con piogge intermittenti e adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi il corriere della sera con la guerra in Medio Oriente ucciso Sinwar guerra al bivio eliminato l'arciterrorista di Hamas Netanyahu dice l'inizio della fine Biden invece è un bel giorno trovato per caso a Rafa Israele diffonde le immagini shock e un video degli ultimi minuti Tajani ora mi auguro un cessate il fuoco la sanità duello Schlein Meloni la BCE taglia ancora i tassi ecco come cambiano le detrazioni anche sulla Repubblica la morte di Sinwar uccisa la mente del 7 ottobre raid dell'esercito israeliano Arrafa eliminato il capo militare di Hamas che pianificò il massacro di un anno fa le famiglie degli ostaggi ora abbiamo paura della vendetta gli USA un bel giorno per il mondo pace più vicina a Gaza Netanyahu esulta con la morte di Sinwar colpito il male ma la guerra non è finita e siamo ora al sole 24 ore di oggi web tax allargata ai piccoli operatori sconti fiscali il taglio salva i contributi la legge di bilancio 2025 l'imposta del 3% sui servizi digitali sarà applicata senza limiti di ricavi versamenti per colfe badanti e assegni di divorzio restano deducibili per intero evitano la stretta anche le somme pagate per la pensione integrativa e poi appunto la BCE riduce ancora i tassi spread sui minimi da 3 anni siamo alla gazzetta dello sport summer esclusivo la mia inter piglia tutto scudetto e champions perché ci credo io paro e vinco con la meditazione sono appunto le parole di Ian Sommer il portiere svizzero alla seconda stagione all'Inter nel taglio alto il tennis Sinner domani sfida Alcaraz nella finale da 6 milioni di dollari bene ed è tutto per questa edizione termina qui la nostra rassegna stampa di oggi l'appuntamento con l'informazione sulla nuova tv torna alle 13.50 con il nostro TG grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata di giornata di giornata a di giornata di giornata Grazie a tutti.